Se troviamo il terreno di alimentazione di questa divinità larvale, potremo usare il frammento del viaggiatore per stanare Xol. Ho effettuato delle scansioni e ho trovato una caverna che interseca uno dei tunnel di Xol. Zavala, ascoltami. Ho studiato i registri. Rasputin riuscì a fermare Xol a malapena, la prima volta. La missione proseguirà. Sconfiggeremo Xol e senza l'aiuto della mente bellica. Non sappiamo cosa potrebbe fare. Sto rilevando una sorta di interferenza e non riesco a venirne a capo. La rilevo anch'io. Dammi un minuto per analizzare il segnale. Forse riuscirò a capire di cosa si tratta. Sto riuscirò a capire. L'interferenza sta peggiorando, ma inizio a riconoscerne la sequenza. La senti, Anna? Ho bisogno di più dati per accertarmene, ma credo che si tratti di un messaggio codificato. Sti cristalli emanano energia. Tante aree li starà utilizzando per raccogliere potere e nutrire Xol. Allora! 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 L'energia in questo manufatto è instabile. Prova a lanciarlo contro il cristallo. Sembra che l'alveare si sia dato da fare qui sotto. Continuate così. Secondo le scansioni i tunnel convergono tutti verso una grande sala. Molto probabilmente si tratta del terreno di alimentazione di Xon. Guarda le dimensioni di questi tunnel. Xol deve essere immenso. Significa che Xol è più forte di quanto pensassimo. Un motivo in più per abbatterlo. Grazie a tutti. 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 Stavano intonando una melodia arcaica su un necromante chiamato Nokris e su come fosse stato bollato come eretico. Cosa può qualificarti come eretico agli occhi dell'alveare? Forse qualcosa riguardo alla resurrezione. Grazie a tutti. 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 Là? Nel centro. È lì che piazzeremo il frammento. No viene l'onche qui. Andrai alla deriva, tu me affocherai nel profondo. Guardiano, guardiano, dove sei? Grazie alla luce. Xol si sta dirigendo verso Rasputin e la struttura di Clovis Bray. Se Rasputin muore, il giavellotto sparirà e Xol vincerà. Molto bene. Le mie paure sulla mente bellica non sono importanti quanto la sconfitta di Xol. Ugniamo le forze. Voi cosa ne dite? Diciamo che siamo pronti.